Il titolo di Renault riduce le perdite dopo che stamane era arrivato a cedere oltre il 20%. A scatenare le vendite alla Borsa di Parigi era stata la notizia riportata dal sindacato CGT di una serie di perquisizioni da parte delle autorità antifrode. La divisione dei tre locali interessati, omologazione e controllo motori, faceva pensare a una conseguenza dello scandalo emissioni Volkswagen. I ride sono stati confermati dal costruttore, il quale però precisa che tutte le verifiche volute dal Ministero dell'Ambiente non hanno rilevato la presenza di software per truccare i test.